Ciao ragazzi, seconda lezione a sacco, le basi diciamo della boxe, allenamento a sacco, quindi fare delle mini combinazioni di questo genere, quindi ormido e viene sempre la guardia alta campi di guardia e facciamo ilохcia, quindi fare delle jabлем, jab, 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 ipartito, i partner daniami daniami Grazie a tutti. Ok? Movimenti leggeri, tranquillo, respirazione, non potenza ma velocità e tecnica. Ok? Ciao a tutti e buona fortuna.